A tempo a Boniferti, dice Nai, ma Bersia non ne farà tesoro. Anche oggi brillerà Muccinelli e Martino segnerà. Sono cento partite che il Torino non perde in casa. Cento e poi più perderà alla centunesima. Martino è la cortoregista della Juve. Al comando della sua baghetta scatta Muccinelli, ma stavolta Moro non corre pericolo. Adesso va all'attacco il Torino. Viola devia il tiro di Bengtsson. In risposta la Juve segna. Centro di Muccinelli, Vivolo a Hansen, gol! Un minuto e la Juve raddoppia. L'azione si sviluppa a destra e si conclude a sinistra. Boniferti si svincola da Bersia. Tira, gol! E due, distacco decisivo. Nella ripresa il Torino segna con Carapellese, ma non raggiungerà il pareggio. La Juventus arriva all'attacco. Boniferti tornato al centro, sfiora il successo. A tre minuti dalla fine, la vittoria è consolidata. Vivolo stringe sulla porta, poi con l'estero del piede passa Martino. Gol! Che!